Parola d'ordine, crescere. Il primo ministro britannico Boris Johnson è arrivato mercoledì sera all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel suo discorso ha affrontato il tema del cambiamento climatico, annunciando il summit sul clima di Glasgow in Scozia, previsto dal 1 novembre. Il vertice COP26 di Glasgow è il punto di svolta per l'umanità. Dobbiamo limitare l'aumento delle temperature, i cui effetti spaventosi sono stati visibili anche quest'estate, con un grado e mezzo in più della media. Dobbiamo unirci per una nuova epoca che si avvicina. L'appassionato discorso di Johnson arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di un report delle Nazioni Unite, secondo il quale limitare il riscaldamento globale a un grado e mezzo è impossibile, senza immediate e massicce riduzioni delle emissioni di gas serra. Il mondo è su un percorso catastrofico, verso i 2,7 gradi, avvertito il segretario generale dell'ONU Guterres. Senza un cambiamento di traiettoria, la COP26 in Scozia rischia di essere un fallimento.